Nella fase finale dei campionati le partite valgono doppio, se vale questa considerazione, questa gara, quella che andiamo a seguire tra pochi minuti, vale triplo e quella tra Upea Capodorlando e Legambri Foods For Lee, gara che probabilmente ci dirà stasera quale delle due squadre accederà ai playoff al postseason, chi perde molto probabilmente è fuori. L'attacco di Capodorlando con la conclusione di Shona Haft da tre punti. Dalla media distanza Haft morbido come sue consedudie. Alex Young dalla lunga distanza mette la tripla. Pellone per la tripla frostale a segno di Alex Young. Dante Medis la dà per Marco Fortanese. Mamma mia! Il tiro in arretramento di Mitch Poletti. Invece Fortanese prova a rispondere con la stessa moneta, non muove neppure la rete questo canestro da tre punti di Marco Fortanese. Arriva la tripla di Taylor Battle. Scarico per Shona da tre punti, la mette. Shona è un grandissimo tiratore da tre. Bellore Battle. Taylor Battle. Scarico per Alex Young da tre punti. Il ferro di Yineg è il canestro, ma arriva la correzione di Mitch Poletti. C'è un canestro di grande fattura di Shonaf Sbagliato il secondo ma c'è il rimbalzo di Alex Young Si apre il contropiede con Alex Young Comodo appoggio al canestro Un gran passaggio da Metis per il canestro di Poletti Può partire il contropiede di Capodorlando con Dante Metis Canestro buono, fallo subito Occasione da tre punti e il ballo è proprio di Roderick Un tiro in sospensione di Young È rimasto una vita in aria Alex Young, cinque secondi La tira da sette metri e mezzo Alex Young, eccola la giocata Haft ci prova da tre punti La mette La palla per la conclusione da tre punti L'errore di Alex Young Ma c'è il rimbalzo di Haft E poi da fin di Niccoletti È partita riaperta, meno due Upea Ci prova anche Taylor Battle La mette nel momento più importante Ed esce fuori Taylor Battle Parte il contropiede Taylor Battle Che va fino in fondo Il tapine di Portannese Si apre il contropiede con Taylor Battle Che può andare alla schiacciata Non c'è il pallo C'è il rimbalzo di Dante Metis Canestro buono Tiro libero supplementare per Metis La palla per Alex Young Da centrocampo Finisce qui la partita E finisce anche il sogno dei playoff per l'Upea Vince Forlì 84 a 79 Vamos pentru a finisce la partita Grazie a tutti